Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio scoppiato sull'autobus di Autolinea e Toscane a Barga. La vicenda è stata oggetto di un incontro svoltosi a Firenze al quale hanno partecipato l'assessore regionale Baccelli e i vertici della società di trasporti oltre alla sindaca di Barga Campani ed il consigliere provinciale Andreucetti. L'azienda spiegato al termine Baccelli ha sottolineato che i mezzi in questione erano stati revisionati tramite audit e che quindi occorre tempestivamente approfondire le cause del guasto. Autolinea ha già effettuato una prima valutazione ed è in programma un'ulteriore ispezione che prevede lo smontaggio dell'autobus in cui si è innescato l'incendio. La società ha comunque garantito che i mezzi di tipologia e marca analoga a quella dell'autobus incendiato saranno progressivamente sostituiti ed in breve sarà fornito un cronoprogramma dei tempi previsti per la sostituzione. La sindaca di Barga ha apprezzato l'approccio di Autolinea. Ho visto serietà e responsabilità su come Autolinea intende procedere, ha detto Caterina Campani. A questo punto aspettiamo l'esito degli approfondimenti con i periti e nella nuova riunione che faremo a breve, ha proseguito la sindaca, non solo avremo ulteriori dettagli sulle cause ma anche gli esiti delle verifiche sui mezzi in provincia di Lucca.